I detenuti della sezione di alta sicurezza del carcere di Castronio di Teramo denunciano attraverso una lettera aperta le condizioni disumane nelle quali vivono costantemente. Il sovraffollamento sarebbe la causa principale di tante sofferenze. 430 detenuti in uno spazio che ne prevede esattamente la metà, condizioni di carcerazione degradanti accertate dal Tribunale Civile dell'Aquila che ha riconosciuto il diritto al risarcimento stimabile intorno a un milione e mezzo di euro. A diffondere la denuncia l'avvocato incaricato Vincenzo Di Nanna, referente dell'Associazione Amnistia, Giustizia e Libertà. Quali sono queste condizioni degradanti? Innanzitutto le carenze strutturali che vanno dalla mancanza di un'attività rieducativa e ricreativa alla mancanza dell'acqua calda, alla mancanza di ogni bene minimo perché sia rispettata la dignità umana. Lo spazio ridottissimo ai limiti, queste circostanze, lo spazio fisico disponibile, queste circostanze hanno fatto sì che il Tribunale Civile dell'Aquila, competente secondo l'articolo 35 terre dell'ordinamento penitenziario, abbia già ripetutamente condannato il Ministero per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, per la carcerazione sofferta proprio nel carcere di Teramo. La grave situazione denunciata dai detenuti della casa circondariale di Teramo ha indotto l'onorevole Stefania Pezzopane, dopo una visita approfondita tra le celle di Castronio, a rivolgere un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia. Ci sono molte verità in quella denuncia. Ho dialogato all'interno della struttura sia con il direttore, sia con il comandante, sia con la polizia penitenziaria o almeno con i responsabili dei reparti visitati e che sicuramente si prodigano in ogni modo, ma quelle non sono condizioni anche di lavoro decenti. 430 detenuti in una struttura che ne prevedeva poco più della metà di quelli invece che ci sono. Un personale carente al di sotto della pianta organica, detenuti impegnativi perché nei vari reparti, nelle varie sezioni ci sono detenuti impegnativi moltissimi in attesa di giudizio, quindi con quell'ansia, con quella fatica a vivere di chi si sente lì magari ingiustamente recluso e con condizioni anche da donna, lo dico, sono rimasta quasi umiliata dal vedere che cucinano a fianco al water. La denuncia al Ministro, Ministro venga anche lei a vedere come ho fatto io con molta umiltà, ma con la voglia di risolvere almeno qualche problema.